ricordi a rivedere questa questa macchina e beh ricordo delle belle corse su d'aurelia appunto con vittorio e tutta la troupe naturalmente trentignan quel film che ormai è nella storia del cinema quello squillo sì perché la famosa quella di tonale famoso clacson bitonali legger volante chi sono i mostri di oggi per di noi basta aprire un giornale ci sono le fotografie dei mostri di oggi sono tanti alzare il tiro insomma io facevo i mostri piccoli mostri quotidiani questi oggi sono grandi mostri politici grandi corruttori sordi lo definisce uno psichiatra divertente uomo estroso e intelligente l'enciclopedia garzanti autore di commedie di costume poi c'è un'autodefinizione credo che sia vero qui lei si dice un fallito riuscito fallito riuscito questo sì sì sono d'accordo perché non so io mi sono mai non mi sono mai considerato maestro infatti il libro che mi hanno fatto di cremesi dice c'è un sottotitolo maestro per caso che mi sembra abbastanza simpatico ironico e mi assomiglia